Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Dello storico segretario del momento sociale italiano, possiamo dire fascista, diciamo. E di ordine nuovo anche. Di ordine nuovo. Lei oggi è in Fratelli d'Italia, è una parlamentare, fa la battaglia e lei la sfida, lei vuole sfidare la Rauti anche sul tema proprio dell'antifascismo, cercando di far leva sugli elettori di quella parte sul tema del rischio, diciamo, di un ritorno di un nuovo tipo di fascismo, diciamo così. Perde. Perde. Perché? Ma intanto io faccio parte di coloro che non hanno mai detto di Isabella Rauti o di Giorgia Meloni che fossero fasciste. Non c'è mai stata nessuna mia affermazione in tutta la campagna elettorale. Ci sono testimoni. Non ho mai usato questa parola perché ho un rispetto sacrale di quella parola conoscendo esattamente cosa voglia dire. Ma la storia non si ripete mai uguale. E per me alcune caratteristiche del pensiero di Isabella Rauti, penso alla sua legge sul cimitero obbligatorio dei feti, penso alla sua battaglia per cancellare una puntata proprio di Isabella Rauti, una puntata della Peppa Pig perché una coprotagonista aveva due mamme, penso alla sua accettazione di un questionario di una rete della destra europea sulle questioni della famiglia, sono valori che io considero al limite della mia accettazione del quadro di valori di riferimenti europei, democratici. Se tu mi chiedi perché io abbia perso, purtroppo devo dire che nonostante la mia profonda fede antifascista, questo valore è evidente che nel nostro paese, soprattutto in una fase di disagio economico così profondo, non assume la caratteristica della primazia nell'elenco delle priorità delle persone. Cioè sembra incredibile questo fatto, tutti diciamo la Costituzione italiana è fondata sull'antifascismo perché c'è una disposizione transitoria che vieta la ricostituzione del partito fascista, e il nostro sondaggio, Index Research, me lo fate vedere proprio sull'antifascismo, dà un dato che comunque è un dato che fa abbastanza impressione, cioè l'antifascismo è un valore imprescindibile della Repubblica italiana, sì per il 55,4%, no per il 41,2%, cioè per 4%.